ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video è arrivato il gx transmission quello che stavamo aspettando quello che un po tutti ci aspettavamo che presto o tardi sarebbe arrivato probabilmente arrivato prima di quello che un po tutti ci saremmo attesi da sram ma eccolo qui stavo dando uno sguardo agli appunti che ho preso per per quanto riguarda questo video soprattutto numeri che ce ne sono diversi che appunto contraddistinguono e caratterizzano questo gx transmission allora cominciamo subito dal cambio c'è una novità interessante piccola magari che però anche da quell'angolazione lì forse riuscite a vedere la batteria di fatto è nascosta si trova esattamente qui dentro ora nel caso della trek rail 9.8 c'è l'alimentazione del cambio tramite la batteria principale quindi questa è una caratteristica del motore bosch prevista da trek la batteria si trova qui dentro nascosta non la vedi non la è difficile anche accidentalmente toccarla impattarla sebbene già su xx x0 transmission sia tutto sommato abbastanza nascosta qui è veramente celata alla vista celata al tatto a qualunque cosa sarà mi ricarica che ci sono anche dei perfezionamenti sul funzionamento del del cambio di questo poi vi dirò e per quanto riguarda il resto c'è una gabbia ancora più resistente perché è in acciaio pesante ma più resistente non c'è la magic wheel che può essere installata di come optional tutte le parti che compongono il cambio possono essere smontate e appunto nel caso di rottura sostituite la gabbia si smonta senza attrezzi come quella dei fratelli maggiori e questo diciamo è un po il cambio però qui viene il bello quanto costa questo cambio allora stando ai prezzi di listino quindi al netto di eventuali sconti a ribassi dei prezzi che per il momento non sono prevedibili il prezzo di lui senza batteria di 480 euro che rispetto ai 6 e 60 700 dei modelli superiori è comunque un certo risparmio non sto dicendo che sia economico è economico rispetto agli altri due sia chiaro peso allora lui pesa 467 grammi rilevati contro i 441 del del modello xx che ho presentato in un altro video mentre invece il gx access pesa 436 grammi quindi ci sono circa 30 grammi di differenza poca roba sia chiaro vediamo al all'altro componente interessante ovvero la cassetta pignoni sempre 10 52 gli ultimi il terzo ultimo e penultimo sono 38 44 quindi la stessa scala degli altri due xx ed x0 cambia ovviamente la costruzione e la finitura esterna del dei pignoni che è nichelata per poter resistere meglio al appunto all'usura come fatta questa cassetta la cassetta è costituita per i primi otto pignoni in acciaio rivettati fra di loro mentre invece gli ultimi dal 9 al dodicesimo sono costruiti seguendo la tecnologia delle diciamo sono ricavati dal pieno e rivettati poi agli altri otto quindi viene una cassetta che è un po più pesante numeri alla mano quella del gx transmission pesa questa 446 grammi contro i 383 grammi della xx sempre transmission quindi qui la differenza comincia a farsi sentire se vogliamo mentre invece pesa 10 grammi in meno di quella del gx access precedente che pesava rilevati 456 grammi prezzo qui viene il bello costa ancora un po 300 euro di listino però sono sempre molti di meno rispetto ai 480 o 720 dei modelli superiori quindi qui è la cosa interessante qui ma anche sulla catena perché la catena quella del gx transmission è sempre flat top e con una finitura particolare per esistere proprio alle coppie motrici delle e mountain bike elettriche fra l'altro ed ha un prezzo di 60 euro contro i 120 180 dei modelli superiori le differenze di peso sono marginali qui chiaramente non abbiamo i perni cavi sono pieni perché pesa un po di più il dato ufficiale che vi posso dare è di 286 grammi per la versione con 120 maglie quindi tutta la lunghezza della catena mentre la catena dell xx transmission con 100 di 116 maglie ha un peso di 250 quindi 286 contro 250 passiamo alle piedivelle allora qui chiaramente parliamo di una imtb per cui la corona si innesta sull'asse del movimento centrale che ha una calettatura isis e appunto poi c'è la piedivella che si avvita sullo stesso perno la cosa interessante è che la piedivella del gx transmission nel caso del motore bosch prevede il cap gap cioè che è una piccola cover di plastica che fa crea un'aggiunzione un po più piacevole felice da un punto di vista estetico fra lo spider e la piedivella e devo dire che è una piccola finezza un'accortezza che può dare una certa soddisfazione da un punto di vista estetico la piedivella è solo in alluminio ad un prezzo decisamente più abbordabile rispetto a quello delle dei modelli superiori e diamo uno sguardo ai numeri allora nella versione per i mtb ha una lunghezza che va da 160 questa 165 170 mm la piedivella invece per la mtb quindi senza il motore parte da 165 170 175 mm di lunghezza la corona che vedete qui non è del gx ma dell xx sram aveva questa disponibile fra l'altro da 36 denti quindi abbastanza impegnativa dal volta in salita e veniamo un attimo al discorso dei numeri le corone del gx sono 30 32 34 sempre con un offset di 3 di 3 mm e una linea catena di 55 mm e hanno un prezzo di 47 euro sono in acciaio le piedivelle non hanno nel caso della versione per mtb non hanno l'opzione del misuratore di potenza e questo fa sì che possano costare tanto tanto di meno quelli della gx transmission vanno da 170 ai 240 euro quindi c'è una differenza significativa perché attenzione quelle delle xx e salire ancora parte da 360 fino a 1260 considerando anche la appunto la versione con la pedivella in fibra di carbonio e il misuratore di potenza sullo spider misuratore di potenza che non è previsto di serie ma volendo si può montare quello da spider quindi quello un po più costoso ma è comunque un'opzione possibile per quanto riguarda i comandi c'è sempre il classico pod è il quello o volendo si può anche mettere un vecchio diciamo comando access e perché funziona anche con con il gx transmission allora a questo punto per chiude il discorso dei numeri si può fare anche una valutazione per quanto riguarda il prezzo del gruppo completo perché i prezzi di destino oscillano fra i 1.300 e 1.150 euro per il gx transmission mentre invece quelli del di un x zero partono da 1.900 per arrivare fino a 3.250 euro è chiaro sono due cose molto diverse due finalità completamente diverse fasce di prezzo molto diverse ma come va lui allora io ho avuto modo di provarlo come vedete su una imtb sulla quale in precedenza era montato di serie proprio il gx access e questo mi ha permesso di fare una un raffronto molto efficace molto effettivo fra i due fra i due cambi fra i due sistemi di trasmissione allora qui bisogna fare una piccola parentesi quando mi è arrivata questa bici che era praticamente nuova ho dovuto fare lavorarci un po mi sono accorto che di fatto il forcellino non era perfettamente allineato e ho dovuto un po tribolare per allinearlo e farlo funzionare in maniera precisa sono un maniaco sulla regolazione dei sistemi access perché dopo un po di anni acquisisce un po di esperienza e devono funzionare in un certo modo richiedono del tempo lo stesso la stessa sram lo riconosce e di fatti ha portato al debutto questo sistema qui che è senza regolazioni quindi gx access funzionava tutto sommato bene ero soddisfatto di aver raggiunto quel livello di prestazioni che mi aspettavo da quel sistema e a quel punto l'ho tolto e ho montato lui bene all'inizio siccome qui l'attacco del cambio è concentrico con il pivò posteriore ho dovuto tribolare un po perché quando ho montato il cambio seguendo tutte le indicazioni di sram ormai ho una certa dimestichezza mi sono accorto che non funzionava come mi sarei aspettato ho dovuto perdere un diciamo un'uscita la parte iniziale di un'uscita in bicicletta l'ho un po sacrificata per cercare di micro regolare il cambio ma poi ci sono riuscito da quel momento in poi ha funzionato in una maniera impeccabile talvolta ve lo dico con estrema onestà e sincerità non mi sono neanche accorto che avesse cambiato quelle volte in cui c'è un cambio di pendenza e simultaneamente c'è un cambio anche di rapporto quindi la cadenza rimane più o meno costante e sembra che ma è successo ho cambiato il cambio ha fatto quello che doveva fare ho guardato giù per ha cambiato non mi sono accorto veramente di nulla e non vale solo per penultimo e ultimo che solitamente lì la cambiata è super fluida vale un po anche per gli altri e qui mi ha stupito mi ha stupito anche più del x0 che avevo provato sulla specialized turbo levo pro 2023 qui lui ha qualcosa secondo me ha qualcosa in più ora strami dichiara che c'è un miglioramento diciamo questa mia segnalazione prendetela un po con le molle perché per adesso posso dirvi che un po di uscite le ho fatte un po di botte fra l'altro le ho prese quindi lui comunque sta ancora lì e funziona come se non fosse successo nulla quindi non voglio troppo farmi influenzare dalle dichiarazioni di sram però devo riconoscere devo constatare che effettivamente un miglioramento di prestazioni comunque c'è fra lui e l'x0 quindi per chiudere rispetto al gx access che se tarato in un certo modo va comunque molto bene lui va ancora meglio sram c'è riuscita a chi lo consiglio diciamo che non è solo per i mtb è pensato per le i mtb perché la catena e la cassetta sono pensate per durare a lungo su questo però vi dirò più avanti se effettivamente così o quanto è realmente così e quindi se state pensando di fare un upgrade verso un sistema un cambio che sia elettromeccanico e magari anche wireless beh questa potrebbe essere l'occasione per fare questo passaggio come detto il prezzo del gruppo intero è abbastanza economico bisognerà magari aspettare qualcosa per fare in modo che i prezzi diminuiscano però lui è un sistema davvero molto interessante di botte e colpi ne ha ricevute abbastanza e sta ancora lì ancora funziona quindi questo è lo sram gx transmission e se avete domande a riguardo a questo questo nuovo sistema vi invito a scriverle nei commenti di questo video oppure a inviarci una mail la redazione chioccio la mtbcult.it in ogni caso sul sito mtbcult.it c'è un articolo dedicato che parla proprio di tutte le specifiche del nuovo gx transmission e con tutte le immagini anche della pedivella per intero e tante altre informazioni magari utili quindi io ho ancora un po di luce fra poco esco me ne vado in bici ci vediamo alla prossima ciao ciao a tutti